molle big putch, putch con attacchi molle, quattro strisce orizzontali dove vanno a convergere queste verticali per agganciarlo sugli spallacci, cinturone, gire tattico e comunque voi desideriate agganciarlo regolabile cerniera lampo doppia buonissima qualità la novità è la cordura questa cordura non è più una mille ma è una molto più morbida 600 che lo rende molto più malleabile il tattile molto interessante l'interno dove troviamo una taschina innanzitutto sfoderata a una doppia fodera interna e troviamo una taschina chiusa a velcro sulla parte anteriore e sul retro abbiamo delle asole elasticizzate per tutta la lunghezza della tasca con uno due tre posti inferiori e altri tre superiori qua con i sei posti dove poter infilare i materiali sulla parte frontale vediamo che ha le fasce molle che potrebbero servire qualora voi vogliate agganciare davanti un'altra taschina per dare un'idea della capienza di questa tasca prendiamo due bombolette spray e vedete che vanno perfettamente al suo interno nonostante tutto ancora avanza nello spazio